E allora tratteniamo questa energia per accogliere i nostri prossimi ospiti perché le loro performance coreografate da Giulia Staccioli riescono spesso a vincere, pensate, la forza di gravità. Da oltre dieci anni si esibiscono nelle principali manifestazioni in tutto il mondo riscuotendo dei successi davvero straordinari. E dal 7 di febbraio ripartono da Firenze con la loro tournée italiana. E allora accogliamo con un grande saluto stasera alla puntata finale di Carramba i Cataclò! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!